Sono orgoglioso di essere pugliese e di aver lottato, anche con fatica, affinché una cosa assolutamente tipica diventasse una esperienza di vita. Sono Deni Bianco, ho 43 anni, sono artigiano della carta pesta. Il momento della sfilata è importante, ma è assolutamente importante anche il momento che precede la sfilata. È molto più importante perché si vive nei capannoni, dove si contiene un saper fare che è spinto. Spesso dico che queste sono palestre di creatività. La sfilata dei carri per Putignano è il momento in cui tutti si mettono l'abito della festa. Quel giorno quando vedi il frutto di questo lavoro, non solo del lavoro, ma dell'ingegno, del pensare, è sempre una grande emozione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.